Gentili telespettatori, buona giornata. È stato detto no all'emendamento di Fratelli d'Italia per portare la chiusura serale dalle 22 alle 24, cioè a mezzanotte, più che altro perché le 24 non esistono come orario. Dopo le 23 e 59 non ci sono le 24, ma c'è mezzanotte. Ma molti sbagliano e parlano delle 24, non possiamo dire sono le 24 e 15, sono le 24 e 30, si dice è mezzanotte e 15. Però così una semplice puntualizzazione. Viene detto no all'emendamento di Fratelli d'Italia per portare appunto l'orario a mezzanotte. Che cos'è un emendamento? È una proposta di modifica della legge che si sta discutendo. In Parlamento, in Senato li chiamano emendamenti e viene presentato al Senato nell'ultimo decreto legge. La Meloni dice, beh, è abbastanza vergognoso. Dice così, al Senato bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia al decreto per posticipare almeno alle ore 24 il coprifuoco. Ancora una volta la maggioranza in Parlamento sostiene le misure liberticide e anticostituzionali del governo. Fratelli d'Italia non si piegherà mai a questa deriva autoritaria che colpisce senza motivo le attività produttive e i cittadini. Scrive così su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che aggiunge molti di più di quelli che votano i provvedimenti. In teoria sono d'accordo a cancellare questa misura e a spostare l'orario. Però mi pare che alla fine vinca sempre speranza, perché altrimenti, dice Giorgia Meloni, questa mattina questa chiusura notturna sarebbe stata portata a mezzanotte, sottolinea la leader di Fratelli d'Italia. La bocciatura della proposta di Fratelli d'Italia di abolire la chiusura notturna è stato un errore abbastanza pesante, del quale ogni partito della maggioranza deve assumersi la responsabilità davanti agli italiani. È il commento del vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti. Si trattava di una proposta di buonsenso in grado di eliminare una norma illegittima e incoistituzionale ed anche inutile, in quanto destituita di ogni evidenzia scientifica il cui unico effetto concreto è quello di affossare interi settori della nostra economia, in un periodo di pesantissima crisi dovuta alla pandemia e all'assenza di misure economiche di reale sostegno ai lavoratori e alle imprese. Io che cosa vedo? Io vedo questo. Come dicevo già in altri video, perché alle 22 dovrebbero, anzi chiudono, ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie? Tutto parte dal governo Conte II che non sapeva come materialmente fermare la Movida. Dice come facciamo a fermare la Movida? La Movida sono quei giovani che si riuniscono il giovedì sera, il venerdì sera, il sabato sera, di solito questi tre giorni del fine settimana, si riuniscono fuori dai bar che vanno alla moda in quel momento, fuori. Si riuniscono fuori, in realtà non è che stanno andando al bar, stanno andando in un punto di ritrovo e spesso sono fuori da questi bar e lì a passare del tempo prima di andare in discoteca, magari dalle 11 a mezzanotte, dalle 10 a mezza, mezzanotte stanno lì o fino a luna e poi vanno in discoteca. È un passaggio, la Movida. Naturalmente si formano al di fuori principalmente dei bar che in quel momento vanno per la maggiore. Il governo non aveva né mezzi né modo di controllare tutta la Movida italiana, tutti i bar d'Italia, perché tu controlli un bar e i ragazzi e le ragazze si spostano da un'altra parte. Non sapendo come controllare questo, che cosa facevano? Cosa hanno fatto? Hanno chiuso alle 22, dice così, ci togliamo il pensiero tutti a casa e così non abbiamo il problema, non abbiamo gli uomini in mezzi come facciamo a controllare tutta Italia. Questo è il fatto della chiusura alle 22, non la spostano alle 23 o a mezzanotte, non peraltro, ma perché hanno paura che se la sposti alle 24, il bar chiude alle 24, di nuovo fuori dal bar si ricominceranno ad assembrare ragazzi e ragazze per la famosa Movida. Questa è la realtà. Naturalmente non puoi dire il bar lo chiudo, il ristorante no, la trattoria sì, la gelateria forse, se non è un punto di Movida la gelateria. Quante gelaterie sono punti di ritrovi? Anche nelle città di mare fuori dalla gelateria c'è il gruppo di persone che sta lì. Ecco, le ho viste anch'io, no? Ecco, è per questo che non vogliono spostare questa chiusura notturna, non tanto perché problema di trasmissione dentro al ristorante, fuori dal ristorante, perché qual è la differenza di stare a mangiare fuori fino alle 22 o fino alle 23 o fino a mezzanotte? Che cosa cambia se tu stai a mangiare al ristorante fino alle 22 o fino alle 23? Non cambia assolutamente nulla. Il problema è quello che vi dicevo prima proprio della Movida. Questo è il fatto. Lo andranno adesso a spostare l'orario, a cancellare completamente, quando avranno somministrato tante vaccinazioni e non avranno più così paura al governo della Movida giovanile. Questa è la realtà che però quasi nessuno menziona e si parla dell'orario, perché 22, perché 23, perché il ristorante dentro noi fuori sì, ma la reale motivazione è assolutamente questa. Non c'è ombra di dubbio. Per chi se l'è dimenticata, ve la ricordo, questa risale al governo Conte II quando ha messo le prime restrizioni, poi si sono accorti che la Movida continuava, vi ricordate, il Naviglia, Milano, fuori dei bar, i ragazzi continuano a vedersi e poi hanno messo sto coprifuoco, così dicono non ci pensiamo più. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti, ci vediamo tra una ventina di minuti. Intanto, se volete, nella community ci sono anche dei sondaggi ai quali partecipare, siamo anche in Facebook e nell'altro canale di YouTube Teleitalia Seconda Rete. Poi ci sono anche gli abbonamenti al canale, c'è l'abbonamento di un euro al mese per vedere i video in anteprima prima degli altri e poi c'è l'abbonamento di 3 euro al mese per poter vedere oltre ai video in anteprima anche dei video dedicati solo a questo abbonamento. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video.